Grazie a Lega Nord le pensioni di reversibilità non verranno toccate. Oggi l'Invest, a seguito di una mia interrogazione, dichiara ufficialmente di aver sbagliato la propria circolare. Questo errore speriamo che non abbia già penalizzato alcune pensioni di reversibilità. Comunque noi staremo attenti, così come abbiamo fatto in Parlamento sulla legge delega alla povertà, che già loro volevano tagliare le pensioni di reversibilità, vigileremo affinché questa circolare venga modificata immediatamente e che l'Invest non si permetta più di prendere in giro i propri pensionati.